Un signore entra in un casino e di fronte a un tavolo da roulette francese appoggia un euro sul nero. Riuscirà a vincere o perderà i suoi soldi? E chi lo sa che cosa gli capita? La matematica può dire che cosa gli capiterà? No! In quella giocata. Nel lungo periodo sì. E sì, perché la matematica ci permette di fare delle previsioni e i calcoli necessari per farli sono davvero molto semplici. Nella roulette ci sono 37 numeri, dall'1 al 36 più lo zero. Di questi 18 sono neri, 18 sono rossi e poi c'è lo zero che è verde. Ora se il signore scommette un euro sul nero vuol dire che vincerà quando esce un numero nero. In media ogni 37 lanci della pallina 18 volte la pallina si fermerà sul numero nero e il giocatore vincerà un erno oltre a quello che è giocato. Le altre volte che sono 19, una in più, invece sarà più povero di un euro. Quindi su 37 giocate complessivamente sarà sotto di un euro, perché 18 volte vince, 19 volte perde un euro. Questo non vuol dire che il giocatore perderà esattamente un erno ogni 37 giocati, ma un erno ogni 37 giocati è il ritmo medio di perdita del giocatore. Questo ritmo medio di perdita è quello che pian piano lo trascina verso il suo inesorabile destino e cioè perdere. Certo, un giocatore potrebbe essere più fortunato della media e magari vincere una, due, tre, quattro volte di fila. Ma quello che è certo è che a lungo andare le cose per lui peggioreranno. E infatti se si fanno due calcoli si scopre che dopo 100 giocate in realtà ancora una probabilità abbastanza alta di essere in positivo, circa il 43%. Dopo mille giocate la probabilità di essere ancora inattivo è scesa al 21%. Dopo 10.000 giocate pari allo 0,3%. E dopo 100.000 giocate non c'è storia. La probabilità di essere ancora inattivo è dello 0,000000000000001%, anzi un pochettino più bassa di così. Insomma, non c'è nulla da fare. Più il giocatore gioca e più è destinato a perdere i suoi soldi. E se cambio gioco la sostanza non cambia. Ad esempio per il gratte vinci. Certo lì il meccanismo è un pochino più complicato perché se uno compra un gratte vinci da 5 euro, quando perde perde 5 euro, ma quando vince potrebbe vincere 5 euro, 10, 100, 1000 o anche 500.000 euro. Ma la sostanza non cambia. Nel lungo periodo perdere è matematico e la matematica permette anche di calcolare il ritmo medio di questa perdita. di calcolare il ritmo medio di questa perdita.